Per prima cosa metti in una ciotola bella capiente 220 g di farina. E 70 g di zucchero a velo. Unisco 4 g di lievito per dolci e la buccia grattugiata di un limone ben lavato, solamente la parte colorata. Mescolo brevemente con la frusta a mano. Quindi aggiungo 100 g di yogurt alla vaniglia e 70 ml di olio di semi. Mescolo per bene con la spatola fino ad ottenere un composto omogeneo, uniforme e morbido. Ho trasferito il composto appena preparato nella sac à poche con beccuccio regato. Sulla leccalda da forno, coperta con carta forno, forno tante roselline. Su ogni una posizione una ciliegina candita. Procede in questo modo fino al termine del composto. Trasferisco la leccalda in forno già caldo e statico e lascio cuocere a 180 gradi per circa 15 minuti. I biscotti risulteranno chiari, devono colorirsi solamente sul fondo. Dopodiché lascio raffreddare leggermente circa 5 minuti. Poi stacco dalla teglia e trasferisco sulla gratella. Lascio raffreddare completamente. Ed eccomi carissimi amici, i golosissimi biscotti allo yogurt e limone sono pronti. Sono realizzati senza uova e senza burro. Non hanno bisogno di riposo in frigo. Sono facili da fare e mantengono benissimo la forma. Ma consiglio di farli perché uno tira l'altro.